Morire di eutanasia solo i 23 anni perché si è depressi e si è stanchi di vivere. Morire anche se non si è immobilizzati a letto in preda dolori insostenibili come recitano i sostenitori dell'eutanasia e le norme di legge per il suicidio assistito. Morire basta, non è il primo caso e non sarà l'ultimo. Sbandierato come un diritto apre una deriva nella società perché ogni atto così definitivo non è solo l'esercizio di una libertà personale ma ricade come un macigno sull'intera società. E' la drammatica scelta fatta da Shanti de Corte, una ragazza fiamminga di Anversa che sei anni fa scampò miracolosamente all'attentato avvenuto all'aeroporto di Bruxelles e rivendicato dall'ISIS. Da allora non ha mai superato il trauma psichico subito in seguito all'esplosione della bomba nell'area del check-in. La giovane, secondo quanto ricostruito dai media locali, aveva avuto già prima problemi psicologici ma dal momento dell'attentato è stata tormentata da incubi. Da qui la richiesta di morire, fatta a norma della legge in vigore in Belgio e viene da chiedersi perché non sia arrivato un aiuto medico psichiatrico in grado di lenire il dolore di vivere. Tremendo morire ma troppo facile, curare più difficile. La scelta dell'eutanasia è giunta il 7 maggio scorso quando ha detto definitivamente addio alla vita con i suoi genitori al capezzale. Per la Commissione federale responsabile del controllo sull'eutanasia quella di Shanti è una pratica, una delle tante, andata a buon fine. Ora però i giudici di Anversa hanno avviato un'indagine dopo la denuncia di un urologo dell'ospedale di Brooklyn secondo cui il via libera all'eutanasia per la ragazza è stato concesso senza verifiche approfondite. Secondo il medico infatti c'erano ancora cure da utilizzare per guarire Shanti. Proprio la settimana scorsa il Belgio è stato condannato dalla Corte Europea per i diritti umani per mancanza di controlli delle procedure di eutanasia.